Termina oggi Scuole Sicure, lo screening durato quattro giorni organizzato dal Comune di Pesaro negli istituti secondari della città dopo il rientro degli studenti nelle scuole superiori. Buono il bilancio, devo dire grazie e bravi veramente ai tanti studenti che si sono sottoposti. C'è stato grande senso di responsabilità, grande senso civico verso i compagni di classe, verso loro stessi e verso le persone che sono a casa. Avevano voglia di tornare in classe, avevano voglia di riavere quei momenti di socialità che per tanti mesi hanno perso. Ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il Croce Rossa, Protezione Civile, tutti coloro che sono stati con noi. In questi giorni veramente c'è stato un grande lavoro di squadra, siamo contenti per il risultato che c'è stato. Purtroppo c'è stato anche qualche positivo, ma la funzione di questo screening era questo, era permettere di stare in classe in sicurezza e di stare a casa in sicurezza. L'ipotesi e la speranza è che sia nei prossimi mesi un'operazione che insieme alla Regione si possa portare avanti. Il mio augurio è questo, magari una volta al mese con la Regione. Abbiamo visto che siamo stati in grado di organizzare tutti i siti, c'è stato veramente un grande lavoro di squadra perché si riconosce la validità del progetto. Le giornate nel complesso sono andate, devo dire, molto bene, nel senso che l'adesione è stata molto alta, parliamo di percentuali importanti, sopra il 70% qua al campus. È stata comunque proficua perché nel complesso sono stati individuati 15 positivi tra docenti e ragazzi e questo ha permesso di applicare le opportune misure di quarantena attraverso i dipartimenti di prevenzione. Direi che poi la struttura organizzativa è stata valida, replicabile e quindi nel complesso è andato tutto molto bene. Nella giornata di ieri lo screening nelle scuole superiori ha permesso di individuare 5 nuovi soggetti positivi tra studenti e professori. Per la sua ultima giornata di attività che si è svolta oggi al campus, all'Agrario Cecchi e al Mengaroni, il progetto Scuole Sicure si è allargato anche al personale dei nidi e delle scuole di infanzia comunali. Abbiamo scelto questa categoria, allora innanzitutto è stata una richiesta dei sindacati, ma condividiamo questa richiesta perché soprattutto questa fascia di età 0-6 in cui non è possibile il distanziamento sociale, non è possibile prevedere le mascherine, sono diciamo dei luoghi di lavoro particolari ed era una garanzia in più per il personale che ci lavora, una garanzia in più per le famiglie. Positivo il giudizio sull'iniziativa anche da parte dei ragazzi che si sono sottoposti al test. Come è la decisione di farlo? Perché per la sicurezza della nostra classe, la mia famiglia e poter oggi andare da mia nonna subito. Quindi subito favorevole da quando è nata all'iniziativa? Esatto, sì. Molto utile e penso che si debba fare anche più di una volta perché è molto importante controllare lo stato attuale della pandemia, insomma, penso che controllare sia molto importante. E il ritorno a scuola come è andato? Molto bene, molto bene. È stato, diciamo, un po' strano, però ci si ambienta, insomma. È stato bello. È una cosa molto utile per la sicurezza, per la famiglia, per la scuola, un po' per tutto, dai. Il tuo ritorno a scuola? È andato bene, è abbastanza sicuro, tutte le norme a regola, giusto. C'è differenza rispetto alla didattica a distanza? Sì, molto più differenza, si riesce a seguire molto meglio le lezioni rispetto alla distanza. Poi anche il rapporto con gli amici cambia, sì, sì.